La Nord Meccanica Volley piega anche Scandici a domicilio e mantiene saldamente la vetta della graduatoria in coabitazione con Conegliano, vittoriosa a Bolzano. Nel quarto turno del girone di ritorno, Piacenza supera anche l'ostacolo toscano con un 3-1 maturato grazie ad una grande reazione alla beffa subita nel primo set. Le padrone di casa sorprendono il sestetto di Gaspari nel finale di frazione. Dopo aver condotto comodamente fino al 2019, ecco il guizzo finale della squadra allenata da Massimo Bellano che chiude 25-23. Nella seconda frazione ancora avanti Marcon e compagne che si affidano a Florty Mainers per rientrare in partita e piazzare il punto dell'1-1. Secondo e terzo set che confermano la superiorità della capolista che non si concede distrazioni e chiude i conti senza esitazioni. Una vittoria nel segno della Mainers che chiude con ben 21 punti. Domenica prossima alle 18, altra ghiotta opportunità per le Piacentine che riceveranno la visita della matricola Vicenza.